E' eliminata un altro clamoroso colpo di scena, clamoroso colpo di scena esce la Ackermann, la grande atleta, la regina del salto, la donna che per prima aveva superato i due metri, clamorosamente esce di scena. Con Pietro, Sara, è già la primatista mondiale, a Mosca si conferma la più grande. Bene, bene, bravissimo, brava! Quindi rimasta in gara Sara Simeone e la Kylan, terza prova, terza prova, fallito! Oro, oro, oro! Medaglia d'oro, Sara Simeone, Sara Simeone non sa trattenere la gioia, giustamente la ragazza prezza è controllata come in questo momento, ha centrato il suo grande bersaglio ed ora va ad abbracciare la sua rivale e vedete, non sa trattenere la commozione come del resto ci capita anche a noi.